E' giunto un momento molto particolare, sì perché dovete sapere che noi siamo un programma internazionale, quello di questo momento è praticamente dedicato a tre ragazze che vengono direttamente dal Belgio. Vediamo un attimo che cosa hanno da dirci dal nostro super confessionale con la nostra inviata speciale e interprete Itiziana Danubio. Iniziamo subito con Jen Sander. Buongiorno, mi sono Jen Sander, per me la danza è un modo di expressione, ma soprattutto un modo di liberazione. Buongiorno, oggi vi presento anche un drum solo che ho appriso in un stage con Jilina. Quindi mi senti molto bene questo stage e mi sono benvenuta e è proprio il sentimento che ho voglio di trasmettere a mio pubblico oggi. Quindi spero che voi vengono tanto che io in danza questo giorno e che tutto si passerebbe molto bene. Grazie! 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 Dan Sander! Allora, siccome lei viene dal Belgio e straniera e non parla la nostra lingua, io chiamo l'aiuto dal backstage. Quindi chiamo qui la nostra interprete e inviata speciale Tiziana Danubio. Allora, più avanti, grazie. Allora, Jen, cosa si può esprimere attraverso la danza orientale di diverso rispetto alle altre discipline? Traduziamo. In realtà, lei vorrei sapere cosa la danza, a parte della danza orientale, cosa può esprimere la danza orientale per rapporto a altre discipline. Tu vois? Allora, per me, già, non c'è una discipline che è più artistica che l'altra e che restrena i modi di comunicazione e di emozioni. Dunque, per lei non esiste solo la danza orientale, ci sono tutte le altre discipline che possono esprimere. Allora, lei, personalmente, è innamorata della danza orientale perché è anche innamorata dei ritmi della danza orientale, specialmente. E anche, per me, le movimenti rappresentano la femminità in tutta la femminilità. E anche i movimenti rappresentano tutta la femminilità. C'è tutto. Grazie. Grazie. Non tieni noti, non tieni noti. Come sei venuta a conoscenza di questo format televisivo? Come sei che tu hai connu questo format televisivo, RMTV? Eh bien, tout simplement, je m'interesse beaucoup à tout ce qui est stage à l'étranger pour apprendre encore plus. Et par Facebook, et donc toi, j'ai... Allora, lei si interessa tantissimo al mondo della danza per studiare fuori e poi anche grazie a Facebook e grazie anche a me che l'ho un po' invindicata a andare su RMTV. Grazie mille, portalo con te, Tiziana, ci servirai ancora, sei preziosissima. Sì. Jane Sander. Grazie. 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 Grazie.